Assessore, le ultime battute di questa campagna elettorale che l'ha vista in giro sui territori, anche sull'alto di Oreno-Cosentino, dove i candidati della zona forse guardano con un po' di diffidenza a quelli di Cosenza, della provincia, perché vorrebbero loro un loro ritorno. Lei che cosa può pensare di raccogliere come consenso in questo territorio che l'ha vista protagonista, soprattutto con i PISL? Noi siamo qui per rivendicare con orgoglio i risultati di un lavoro lungo cinque anni che ha portato anche in questo territorio tutta una serie di risposte in termini di nuove opere e di nuovi servizi. Poi da parte nostra c'è il massimo rispetto nei confronti di tutti i candidati, ad iniziare da quelli locali. E' però questa è una campagna che si gioca su 155 comuni e quindi per essere eletti, per tagliare per primo il traguardo, occorre prendere consensi e preferenze in ognuno dei 155 comuni. E quindi il messaggio che sommessamente mi permetto di dare al corpo elettorale, agli elettori anche dell'alto Tirreno Cosentino è quello di scegliere chi ce la può fare e non disperdere il voto in Mileripoli. La chiusura sarà affidata a grandi nomi, Renzi, Alfano per i vostri competitor, per voi Mara Carfagna. Segno anche che la Calabria a livello governativo può scuotere un po' il panorama politico se non è già scosto abbastanza? Io ritengo che al di là dei nomi di dirigenti del nostro movimento, degli altri partiti, la Calabria ha al proprio interno gli anticorpi per sconfiggere i mali endemici che la affliggono. Il primo è la criminalità organizzata, il secondo è la cattiva amministrazione della macchina burocratica, la burocrazia, i burosauri. All'interno della nostra comunità regionale ci sono donne e uomini per bene, capaci, vogliosi di fare, pieni di passione, che possono lavorando insieme proiettare la Calabria in un percorso di crescita e di sviluppo. Per questo la sfida io ritengo che Forza Italia abbia le carte in regola per far passare un messaggio coerente di innovazione e di cambiamento.